Ciao a tutti, carissimi, oggi volevo condividere con voi una riflessione e ricordarvi e ricordare anche a me stesso che siamo davvero tutti chiamati alla santità, alla santità più elevata e per completare questa mia riflessione volevo leggervi alcune parti della Gaudete et exultate, l'esortazione apostolica di Papa Francesco, lui dice nel punto 17 per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità perché questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione, citazione tratta dalla prima lettera ai tessalonicesi di San Paolo. Infatti ogni santo è una missione, è un progetto del padre per riflettere e incarnare in un momento determinato della storia un aspetto del Vangelo. Tale missione trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere solo a partire da Lui. In fondo la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell'unirsi alla morte e risurrezione del Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. Il disegno del padre è Cristo e noi in Lui. In definitiva è Cristo che ama in noi perché la santità non è altro che la carità pienamente vissuta. Pertanto la misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto con la forza dello Spirito Santo modelliamo tutta la nostra vita sulla sua. Così ciascun santo è un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo. Bene fratelli, davvero proprio il nostro primo pensiero durante la giornata deve essere proprio quello di crescere nella santità con l'aiuto dello Spirito Santo. Questo proprio deve essere il nostro primo pensiero e vedrete che con l'aiuto di Dio potremo riuscirci, potremo riuscire a diventare santi nella semplicità della nostra vita. Se il Signore ci chiederà di fare grandi cose, faremo grandi cose. Se ce ne chiederà di piccole, faremo le piccole. Ma ricordiamoci che la santità consiste davvero nel fare con grande, immenso amore anche le cose più piccole. Non è necessario fare cose straordinarie.